... Prima del via, ambedue a zero punti. Montervino nuovo acquisto, così come Cozza che debutta. Momento difficile per Crini, per Brini ed Apollone. Arbitra gava di Conegliano, Alfonso si annuncia protagonista. Ma Bruno subito sbaglia una punizione clamorosamente. Poi Pestrin quasi inganna il portiere della Salernitana, Polito. Salernitana che fatica molto, soddimo esterno sinistro di testa. Appara comodamente Alfonso che poi su un cross non ha alcuna difficoltà. Salernitana davvero povera nel primo tempo, Modena che controlla la partita. Nel secondo tempo qualcosa di meglio e subito. Al terzo Pestrin cattura un calcio di rigore per un contatto con Cortellini. Dal dischetto Cozza è preciso e freddo, ha grande esperienza, non sbaglia. Salernitana che mette in discesa la partita, pubblico 8.000 spettatori entusiasti. Il Modena però è subito pericoloso. Poi Cozza ringalluzzito dal gol, fa vedere la sua classe, tira Alfonso bravissimo nel deviare. Poi Brini sbaglia qualche sostituzione, il Modena ne approfitta e conquista campo. Ecco Catellani che sfiora il gol ma è in agguato la squadra del Modena. Bruno di testa ruba tempo e misura a Fusco, 39esimo dalla ripresa e pareggia. E quando poi, ecco rivediamo intanto al Ralenti la prudezza dell'antico goleador Bruno. Poi nel finale gol annullato a Caputo per millimetrico fuorigioco dell'arbitro Gava, il primo assistente. Ecco poi una palla che arriva a Bruno, 49esimo, controlla col sinistro, palla che picchia sul palo e va in porta. E il trionfo per il Modena, mentre che festeggiano i 100 tifosi al seguito, va in crisi piena la Salernitana. Dunque una Salernitana che incappa davvero nel periodo più buio della crisi. Brini, allenatore già contestato. A fine gara un colloquio tra i tifosi e un dirigente Granata per sollecitare maggiore impegno. Il Modena esce invece dalla situazione difficile. Tra la rida di voci, forse creerò imbarazzo ma devo dirlo, in cima al gradimento dei tifosi della Salernitana. Fu un calciatore che conquistò la B nel 90 qui a Salerno, allenatore al momento su piazza disponibile. C'è proprio in cima ai desideri Mario Somma. A voi la linea. Grazie, l'arbitro Gava a sufficienza e Terino Assis in diretta. Gianfranco è un amico. Sì d'accordo, ma tu sei pieno qui con noi per cui non puoi andare in nessun posto perlomeno.